Buon pomeriggio, io sono Gioia, sono nuova del canale e ho deciso di intraprendere questo nuovo viaggio. Pubblicherò tutta la settimana dal 9 al 15 dei segni zodiacali. Mi sento impacciata e imbarazzata perché non amo mettermi in mostra, non amo farmi vedere, però chiaramente questo è quello che ci si richiede e quindi faremo anche questo. Allora, ho deciso, come dicevo, di intraprendere questo cammino insieme a voi e mi auguro che ascolterete con piacere i miei video. Ma non voglio che voi valutate e vediate semplicemente per voglio vedere l'oroscopo e quindi ok, vediamo l'oroscopo, vediamo il segno zodiacale. Voglio che voi prendete questo canale per andare oltre quello che sia l'oroscopo, la cartomanzia, magari qualche interattivo e chissà che altro insomma verrà fuori. Voglio che se c'è qualcuno che ha bisogno comunque di una mano perché ci sono dei problemi e avete bisogno di sentire un parere di una persona estranea, io sono qua. Allora, avete tranquillamente anche il mio profilo facebook, mi potete trovare come Gioia Gioia in facebook, avete anche il mio numero di telefono o di cellulare dove mi potete contattare solo ed esclusivamente in whatsapp che è 391 720 2677 E potete tranquillamente contattarmi, chiaramente negli orari, insomma, negli orari più normali. Allora, cosa dirvi? Io mi auguro che quello che vi dirò vi farà piacere, prendete il tutto come un gioco, deve essere un passatempo, non focalizzatevi assolutamente su quello che chiaramente dicono le carte, Quando si tratta nel caso di segni zoni acali, quando si tratta in linea generica di un segno, chiaramente dovete sempre prendere quello che ritenete opportuno e lì dove c'è qualcosa che non vi piace dovete essere bravi, ecco, a prendere quel qualcosa di negativo e a girarlo e farvelo positivo. Poi ognuno di voi sa le vostre storie, sa il vostro tutto e si cerca insomma sempre di fare il meglio. Io vi ringrazio e presto vi posterò chiaramente l'oroscopo. Una cosa volevo dirvi, per quanto riguarda gli oroscopi, già non sono abituata a farmi vedere in web, in più non sono abituata a smazzar carte di fronte a una videocamera, telecamera, quello che sia. Ho già preparato io gli interattivi degli oroscopi di questo fine settimana, o meglio gli interattivi, scusatemi, ho già preparato la settimana per quanto riguarda gli oroscopi, ve la leggerò, chiaramente è la mia settimana nel mio modo di leggere, magari con calma il tempo che io mi sciolgo, andremo avanti tranquillamente anche eventualmente a farvi vedere le carte, o insomma a creare, se questo è possibile, anche un'interazione con voi. Mi potete scrivere senza problemi e vi prometto, vi prometto che sarò comunque sempre presente, perché questa è una cosa che mi piace, non mi piace leggere le carte o fare questi video, mi piace proprio poter essere di aiuto a chiunque ne avesse piacere o a chiunque avesse un qualsiasi, ripeto, genere di problemi, io sono qua, ho una mosca che mi gironzola, vabbè, anche questo fa parte di tutto. Ragazzi, ripeto, vi auguro una buona giornata e speriamo che questo tutto possa, insomma, avere una buona prospettiva che vi possa interessare. Vi ringrazio tanto e scusate l'imbarazzo a risentirmi. Presto!